Allora amici telespettatori di Telebabu, siamo con Paolo, il mio tablone, che ci spiega del libro. Come si spiega? Dici due parole... Io nasci da questa idea che ho voluto raccontare un po' le storie dei campioni mancati che ho conosciuto nella mia vita e stasera siamo qui ad Arezzo, insomma, a presentarlo insieme a Giaccherini, sta bellissima serata. Dove si può trovare il libro? In tutte le piattaforme online, compreso Amazon e in tutte le librerie. Faccio un saluto per la nostra web tv e un invito a scaricare l'app. Ciao ragazzi, mi raccomando, scaricate l'app e seguite Stefano perché è veramente in gamma.